A Clusone la settimana corta si farà ma solo alla primaria e a partire dall'anno scolastico 2025-2026 trovata una mediazione dopo le proteste dei genitori e l'intervento dell'amministrazione comunale. Progetti per nuove opere a Songavazzo, alcuni interventi hanno già trovato il finanziamento, per altri l'arrivo di contributi è probabile. Il Museo d'Arte Sacra San Martino di Alzano Lombardo in collaborazione con l'Accademia Carrara di Bergamo saluta l'arrivo della settecentesca alcova di Ganimede di Grazioso Fantoni, il giovane. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca, intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri per un infortunio sul lavoro avvenuto a Costa Volpino in un'azienda di Via Pio. È rimasto ferito un uomo di 52 anni che dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine. Un'altra notizia, un 52enne residente a Bergamo è stato arrestato per atti persecutori in Bergamasca. Si tratta di uno dei primi casi di applicazione dell'istituto dell'arresto in differita, introdotto con le ultime modifiche alla normativa del Codice Rosso. La vittima, una donna di 51 anni residente a Bergamo, dopo aver chiuso la relazione ha subito numerosi pedinamenti e appostamenti sotto casa da parte dell'ex compagno, il quale tra l'altro l'ha minacciata più volte di fare del male a lei e a suo figlio qualora non avesse riallacciato i rapporti. La donna, dopo l'ennesimo appostamento sotto casa, nei giorni scorsi ha deciso di recarsi presso la stazione Carabinieri di Bergamo principale per sporgere denuncia. I militari subito si sono attivati per rintracciare l'uomo che è stato arrestato. Sebbene i Carabinieri non abbiano assistito ad alcun atto persecutorio, pertanto in assenza di flagranza di reato, sono riusciti comunque ad arrestare l'uomo, un bergamasco di 52 anni con precedenti specifici grazie al nuovo istituto dell'arresto in flagranza di ferita per reati di Codice Rosso. I Carabinieri hanno infatti visionato le chat dove sono emersi chiaramente gli atteggiamenti persecutori nei confronti della donna. I militari hanno così potuto procedere all'arresto entro 48 ore dal fatto per il 52enne. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. Cambiamo decisamente argomento. Un altro tassello della viabilità bergamasca trova sistemazione. Oggi è stata inaugurata la tangenziale est di Verdello, completata con il secondo lotto. vediamo. Taglio del nastro con notevole anticipo sul cronoprogramma per la tangenziale est di Verdello, cofinanziata da Regione Lombardia. È stato inaugurato il secondo e ultimo lotto dell'opera alla presenza dell'assessora regionale alle infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Oggi concludiamo di fatto la tangenziale di Verdello. Il secondo lotto che inauguriamo oggi è il completamento e quindi un avvicinamento ulteriore alla città di Treviglio. Un collegamento che non solo permette di evitare, insomma evita il passaggio di un traffico importante che sfiori 14 mila veicoli giorno dal centro di Verdello e che quindi restituisce alla comunità di Verdello i territori che le appartengono ma soprattutto rende più fluido e più sicuro ovviamente l'attraversamento di questa parte della provincia di Bergamo. Un'opera importante a cui Regione Lombardia ha contribuito fortemente. Se considerate che tutta l'opera sfiori 14 milioni di valore considerate che quasi 13 milioni di euro, 12 milioni e 8 li ha messi Regione Lombardia. Nel caso di specie 3 milioni e 4 l'intervento di questo secondo lotto, 3 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia che non si è limitata alle risorse economiche ma che devo dire con grande anche pazienza talvolta ha fatto in modo che tutti gli enti territoriali convergessero non solo sul progetto ma anche chiudessero insomma la partita della relativa alle risorse economiche che devo dire insomma sono state un problema almeno fino al 2020. La tangenziale di Verdello si aggiunge ad altre opere viabilistiche finanziate dalla Regione in Bergamasca. L'obiettivo dichiarato nella scorsa legislatura dal Presidente Fontana era quello di aiutare i territori a muoversi meglio permettendo così ovviamente uno sviluppo dei territori medesi. Direi che Bergamo è un grande esempio di questo. Considerate che oggi inauguriamo una strada con 10 mesi d'anticipo rispetto al cronoprogramma. Tra poco inaugureremo anche la fine, chiuderemo i lavori dello svincolo del casello A4 di Bergamo. Abbiamo inaugurato pochissimi anni fa, pochi mesi fa la variante di Zogno, insomma grandi opere che il territorio aspettava veramente da tanto tempo e che grazie in particolare al Presidente Fontana e a questa amministrazione regionale si sono concretizzate e devo dire che stanno cambiando in meglio decisamente la vita dei bergamaschi ma non solo, insomma di chi opera su Bergamo. La tangenziale est di Verdello si configura come variante alla strada provinciale ex statale 42. Il primo lotto è stato inaugurato a dicembre 2022. Il secondo lotto interconnette la provinciale con via Adua a sud dell'abitato dando piena attuazione alla variante all'ex strada statale. L'opera comprende un percorso ciclopedonale e il sottopasso ciclopedonale di via Daminelli. Sentiamo anche il commento di Gian Antonio Arnoldi, amministratore delegato di concessioni autostradali Lombarde. La regione ha avuto un ruolo decisivo, senza il 90% del finanziamento regionale non avremmo potuto fare quest'opera decisiva per il territorio. Qua noi stiamo facendo risparmiare traffico, stiamo facendo un'opera sicuramente anche ambientalmente molto, molto positiva e quindi siamo contenti, siamo contenti di averla fatta, di averla fatta nei tempi previsti, oserei dire con dieci mesi di anticipo. Non so, questo è lo stile Lombardia, questo è lo stile di Cal. Per le opere dove troviamo amministrazioni provinciali e amministrazioni comunali competenti e collaborative, le opere la regione Lombardia le fa, le fa bene e le fa subito. Sembra aver trovato un punto da prodo il confronto sulla settimana corta a Clusone. Gli incontri degli ultimi giorni hanno portato a una mediazione. Sentiamo. La settimana corta a Clusone si farà, ma solo alle elementari, e a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Questo l'esito dell'incontro tra il Consiglio d'Istituto, il sindaco di Clusone Massimo Mostabilini e l'assessora all'istruzione Flavia Bigoni. Dopo i malumori e le proteste dei genitori per la bocciatura dell'orario con il sabato a casa, a cui aveva fatto seguito anche l'intervento dell'amministrazione comunale, è stata quindi raggiunta una mediazione. La notizia è stata comunicata con una nota congiunta di scuola e comune. Si legge che il Consiglio d'Istituto, dopo un attento confronto, ha condiviso di deliberare l'attivazione della settimana corta per la scuola primaria di Clusone a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Il comunicato aggiunge che l'amministrazione comunale di Clusone si farà portavoce con le amministrazioni di Piario, Villadogna e oltressenda Alta per trovare strategie condivise per salvaguardare l'esistenza di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo di Clusone e per dare risposta alle famiglie che richiedono un'organizzazione oraria diversa dalla settimana corta. Il Consiglio d'Istituto sarà chiamato ad approvare l'introduzione della settimana corta il 25 gennaio. Gli aspetti organizzativi e didattici verranno poi definiti meglio in seguito. L'ipotesi di orario presa in considerazione nei mesi scorsi per la primaria prevedeva lezioni da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 con due rientri pomeridiani, indicativamente lunedì e giovedì fino alle 16. Ma la proposta andrà valutata anche in base all'organizzazione del servizio mensa. Ci sono infatti ancora aspetti da definire e che verranno verificati nei prossimi mesi. Si è superata una criticità che rischiava di nuocere alla serenità di tutto l'ambiente scolastico, commenta il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Clusone, Raffaele Di Stasi, che aggiunge «Spero che le divergenze si appianino e si possa lavorare serenamente tutti insieme nella stessa direzione». Ambivalenti i commenti dei genitori che avevano protestato la scorsa settimana. C'è chi è soddisfatto perché comunque la settimana corta partirà almeno alla primaria, chi vede la decisione come un primo passo e chi invece ritiene si sia persa l'occasione di cominciare già a settembre. La speranza è che la prospettiva della settimana corta convinca le famiglie indecise ad iscrivere comunque i propri figli a Clusone. Progetti per nuove opere pubbliche a Songavazzo. Alcuni interventi hanno già trovato il finanziamento, per altri l'arrivo dei contributi è probabile. Se il Comune riuscisse a centrare tutti i bandi, l'importo totale supererebbe il milione e 800 mila euro. A Songavazzo si avvicina la fine del mandato per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Covelli. È anche il momento per fare il punto sulle opere pubbliche, soprattutto su quelle in arrivo. Quali sono gli interventi sui quali state lavorando? Abbiamo effettuato e realizzato e concretizzato delle progettazioni esecutive. Per gli addetti al settore è facile capire quindi che la progettazione esecutiva significa che il progetto è completo, pronto per essere cosiddetto cantierabile e fornito anche di tutte le autorizzazioni necessarie. I progetti che andrò ad elencare, che abbiamo fondamentalmente realizzato negli ultimi mesi del 2023, hanno quindi un'aspettativa di finanziamento molto alta. Alcuni sono già certamente finanziabili e finanziati, altri hanno un'aspettativa molto alta grazie al fatto che la progettazione esecutiva ci consente di avere punteggi molto elevati nelle graduatorie. E in questo ammetto che Regione Lombardia o Ministero hanno dato tanta priorità ai comuni piccoli. Quindi quando sentivamo parlare di aiuti ai piccoli comuni, devo ammettere che l'ente centrale, l'ente periferico regionale, ha dato effettivamente una grossa mano ai piccoli comuni e questo va meritoriamente ammesso. Nella fattispecie con fondi del Ministero per 80.000 euro, sistemeremo tutta l'impiantistica legata al centro sportivo di Via Toselli, un muretto che parte più o meno dal cimitero di Son Gavaggio, si dirige verso la Baitella che costeggia la pista ciclabile per 50.000 euro, ha un finanziamento tramite la comunità montana bando terrazzamenti. Importante invece è la riqualificazione energetica di questo palazzo comunale da cui stiamo trasmettendo per 650.000 euro attraverso il bando Recap di Regione Lombardia. Un'altra importantissima opera e molto sostanziosa sarà la sistemazione dell'ex municipio, l'attuale sede dove trova sede La Posta, che noi chiamiamo la casa del Giovanni Maria Benzoni perché è un luogo dove facciamo parecchie riunioni. Per questo lavoro si parla di 740.000 euro, di cui 40.000 a carico del Comune, prontamente eseguibili non appena aggiungerà il finanziamento. Per una Pozza in Alpeggio abbiamo un progetto di 80.000 euro e infine una strada a Grossivo Pastorale, un bellissimo camminamento sotto la calcarola che si chiama la strada dei Fop, per 265.000 euro, inserito in un grande progettone che coinvolge anche Rovetta, Cerete, Fino e Onore per arrivare a un progetto molto grande. Mi piace però quindi concludere che il costo totale di queste opere assomma a 1.800.000 euro circa, di cui 80.000 sono a carico del Comune di Son Gavazzo e questo 80.000 rispetto al 1.870.000 è il 5%. Ciò significa che è sempre importante fare le domande, farle bene e ottenere i contributi necessari per la loro realizzazione. Ci spostiamo ad Alzano Lombardo, dove il Museo d'Arte Sacra San Martino, in collaborazione con l'Accademia Carrara di Bergamo, ha salutato l'arrivo della settecentesca Alcova di Ganimede, di Grazioso Fantoni, il giovane, nel Salone d'Onore di Palazzo Pelliccioli. Per noi c'era Simone Masper. Quindi l'importanza della collaborazione col territorio, innanzitutto una collaborazione che non si è esaurita, ma riprende forza, come ha raccontato. Con Alzano il Museo ha sempre avuto motivi di collaborazione e credo che questa, su Gelli, con un'opera così significativa per questo luogo che è noto per il sistema delle sagrestie, costituisca un unico. Per i Fantoni è la produzione profana accanto alla produzione religiosa. È una concordanza che il Museo trova volentieri perché le attenzioni al territorio sono tra i nostri punti principali che vanno coltivati e favoriti e immaginiamo che questo sia un inizio per un percorso che inizia nuovamente. La bottega di Fantoni ricordiamo che ha sviluppato la sua attività per due secoli e la Valle Seriana conserva lungo tutto il suo percorso opere fantoniane. Io penso che Accademia Carrare in alleanza con Alzano possono diventare le teste di ponte per costruire un itinerario culturale fantoniano di assoluto prestigio. Il valore è notevolissimo, estremamente elevato anche perché se della produzione delle botteghe fantoniane restano molti elementi legati all'aspetto religioso, all'aspetto ecclesiastico è veramente scarso invece ciò che è arrivato fino a noi di produzione di carattere laico, di carattere civile. L'alcova di Ganimede, tra l'altro un macchinario maestoso, estremamente complesso, estremamente ricco, ne è un esempio affascinante, estremamente importante. La presenza ad Alzano appunto di questa grande struttura si collega proprio anche a completare quello che è in qualche modo tutto un percorso familiare. Ad Alzano è presente l'opera del nonno di Grazioso, Grazioso il Vecchio, che lascia nella prima sagrestia con i suoi credenzoni quello che può essere considerato il suo capolavoro. è fortissima la presenza dello zio che la morte del padre adottò Grazioso appunto, era figlio del fratello, dello zio Andrea Fantoni, il pulpito, i credenzini della seconda sagrestia. Ed ecco che quindi adesso ad Alzano, arrivando anche l'opera che in qualche modo completa questo svilupparsi della bottega fantoniana attraverso tutto il percorso che da fine 600 ci porta a fine 700, in qualche modo dicevamo si completa, si chiude quasi un cerchio di legami. Grazie all'attenzione, alla lungimiranza della dottoressa Maria Cristina Rodeschini e di tutta l'equipe di conservazione della Carrara siamo riusciti appunto a trovare una collocazione che in qualche modo ricostruisce anche un'atmosfera che ben si lega a quello che è l'alcova. Siamo infatti all'interno di un palazzo che vede la propria struttura crescere fra 600 e 700 e quindi il cammino monumentale, il soffitto. Mi viene voglia anche di dire un po' sorridendo probabilmente uno spazio che i fantoni vissero visto che lavoravano qui di fronte. Domani sera, sabato 20 gennaio alle 20.30, la sala polivalente dell'oratorio di Cazzano Sant'Andrea ospiterà la serata conferenza Un gancio in mezzo al cielo dedicata a Giulia Gabrielli, quattordicenne bergamasca morta nel 2011. Saranno presenti Sara e Antonio Gabrielli, genitori di Giulia, autrice di una profonda testimonianza fra fede e malattia e proclamata serva di Dio dalla Chiesa Cattolica il 7 aprile 2019. Ammalatasi di tumore nel 2009 in giovanissima età, Giulia Gabrielli è morta la sera del 19 agosto 2011 dopo che una recidiva aveva reso inutili le cure dei medici. La sua breve ma intensa vita è raccontata nel libro autobiografico Un gancio in mezzo al cielo edito da Paoline, un diario in cui Giulia narra la lotta per affrontare la malattia e la speranza di guarire, ma anche l'abbandono alla volontà di Dio. Cambiamo argomento, parliamo di una grande tradizione gandinese, quella legata alla scuola Cantorum. Il direttore Marco Guerinoni ha riscritto un brano antico di Andrea De Giorgi, una pastorale, mentre l'archivio adiacente alla Basilica si riempie di nuovi testi. La tradizione di Gandino passa anche attraverso la musica, la riscoperta anche di vecchi testi come ha fatto lei in occasione anche del Natale. Ma assolutamente sì, qui ci troviamo in quella che è la biblioteca parrocchiale, che si trova nella casa parrocchiale dove al piano di sotto c'è la sede del coro, quindi già la struttura in sedici che noi produciamo e studiamo musica la conserviamo, ma è un percorso a doppio senso perché anche dall'archivio poi c'è una particolare cura nello studio dei brani antichi e della storia della musica che è stata qui composta per la Basilica di Gandino. Parlaci della trascrizione, dell'ultima trascrizione che hai fatto. Allora, in occasione delle feste del Natale è stato così un po' un'idea semplice di trascrivere un manoscritto di Andrea De Giorgi che è stato qui maestro di musica nell'Ottocento e studiando il fondo musicale ho trovato una pastorale scritta per la notte del Natale in Re Maggiore per cui l'ho trascritta come augurio per gli amici organisti, per gli amici musicisti e l'ho diffusa tramite anche poi una trascrizione in formato digitale e un po' agli amici che ho sparsi in tutta Italia. Com'è stata questa esperienza? Ma è stata arricchente perché ho scoperto che ci sono tante persone che sono interessate ai musicisti locali oltre a noi ci tengono a queste pagine che sono poco conosciute ovviamente questa era una pagina scritta espressamente per Gandino e c'è ancora tanta attenzione c'è ancora tanto da scoprire, da studiare ma ci sono ancora persone che desiderano conoscere questo repertorio. Il vostro archivio è un continuo aggiornamento è arrivata una donazione importante? Assolutamente sì in occasione delle festività natalizie ci è arrivato un importante regalo da parte di Federica Almeier che è discendente di Vittorino Almeier Vittorino Almeier è un compositore ottocentesco di origine austriaca è stato anche insegnante professore al Mozarteum di Salisburgo quindi una figura di rilievo trasferitosi poi a Roma nello Stato Pontificio nell'Ottocento ebbe l'incarico da Pio IX di comporre l'inno dello Stato Pontificio inno che è rimasto in vigore anche tra le vicissitudini politiche comunque dell'Ottocento romano e dello Stato Pontificio fino poi al 1950 quanto sappiamo che è stato sostituito dall'attuale inno Pontificio composto da Guno e andrà appunto a far parte del vostro archivio ora come ce lo presenti un po' questo archivio come è fatto? ci sono circa 800 composizioni per la maggior parte per il 95% manoscritto e vanno dal 700 con brani e autografi di Quirino Gasparini altro compositore di origini gandinesi al grosso fondo di Andrea De Giorgi un'importante figura dell'Ottocento gandinese che aveva importanti contatti anche con Verdi e con altri musicisti dell'epoca per cui abbiamo qui diverse composizioni anche di rilievo a Ponte Nossa non si fermano gli incontri organizzati dalla Commissione Biblioteca e dedicati all'arte al femminile sentiamo cosa c'è in programma domani continua a Ponte Nossa anche nel 2024 la rassegna l'arte nascosta delle donne un progetto che ha l'intento di portare a riscoprire la vita e le opere di artiste ingiustamente dimenticate continua la collaborazione con il collettivo non una di meno e con la narratrice Eliana Como per questo primo appuntamento del 2024 parleremo di due movimenti artistici le pre-Raffaelite e le Glasgow Girl le pre-Raffaelite nascono nell'Inghilterra vittoriana e hanno lo scopo di recuperare una pittura prima di Raffaello Sanzio quindi di opporsi allo stile accademico classico vigente all'epoca si rifanno a una corrente neodecadente romantica e anche all'arte nouveau le Glasgow Girl si invece nascono a Glasgow sono delle artiste di varie provenienze costruiranno un loro stile particolare che si diffonderà nella città ma riuscirà ad arrivare anche al mondo anche in questo caso rifacendosi da alcuni tratti dell'arte nouveau quindi se volete scoprire le protagoniste di questi due movimenti artistici vi aspettiamo sabato 20 gennaio alle 16.30 a Ponte Nossa presso la sala multimediale Caffi in via rimembranze 5 ingresso libero un pomeriggio alla scoperta dell'arte nascosta delle donne apriamo la nostra pagina degli auguri questa sera buon onomastico a Mario Merelli di Fiorano al Serio da tutta la famiglia con parenti e amici auguri anche da parte di Antenna 2 e adesso i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20.05 videomotori alle 20.25 promo serio eventi alle 20.30 un nuovo appuntamento con l'informazione di Target alle 22.15 Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale alle 23.10 Mai Regione alle 23.50 la rubrica Sport e Tempo Libero a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG infine l'Almanacco domani e sabato 20 gennaio il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 17.13 la luna sorge alle 12.21 tramonta alle 4.36 di domenica la chiesa ricorda i santi Sebastiano e Fabiano è tutto anche per questa edizione vi ricordo a seguire l'appuntamento con il TG Sport e le previsioni del tempo grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione